Mister, c'è un po' di rammarico per questa sconfitta, comunque siete riusciti a tenere testa alla capolista, la scuola che finora ha dominato questo girone, prestazione senza dubbio positiva però quella di oggi della Rosetana? Sì, quando riguarda la prestazione sono contento perché concedere alla Sant'Egidès un tiro e mezzo in porta, abbiamo preso un gol su un tiro dopo 5 minuti e un rigore che purtroppo ci ha penalizzato dopo il pareggio dell'1-1, abbiamo avuto pure la palla del 2-2 con Peter, purtroppo l'episodio nostro non è arrivato Loro hanno avuto la fortuna di trovare l'episodio del calcio di rigore però per quanto riguarda la prestazione sono contento perché abbiamo tenuto come dice lei testa alla Sant'Egidès, non abbiamo concesso niente, siamo stati propositivi, abbiamo cercato di vincerla la partita senza timore, questo mi fa molto piacere L'unico problema è per non aver ottenuto un risultato che sinceramente meritavamo Alla luce della sconfitta di oggi ci vorrà da 10 punti dalla capolista, cambiano quelli che sono gli obiettivi della Rosetana per la stagione? Io ho detto l'altra volta quando abbiamo vinto con il Moradone, noi siamo una squadra che ci dobbiamo salvare, noi non abbiamo fatto una squadra per vincere il campionato, noi abbiamo fatto una squadra per cercare di salvarci al più presto possibile, arrivare ai punti salvezza e poi vedere quello che viene, quindi il nostro obiettivo fino ad adesso Stiamo con una tabella di marcia buona che ci eravamo prefissi, anzi anche più alto, quindi noi non dobbiamo guardare ad altre situazioni, noi dobbiamo guardare solo all'obiettivo che ci siamo prefissi all'inizio del campionato Stiamo facendo quello che dobbiamo fare, qualche risultato come quello di oggi e quello di domenica a Mociano poteva essere a nostro favore ma per gli episodi siamo stati condannati, quindi sono contento Mister, tre punti fondamentali, oggi era importante soprattutto ritrovare il successo dopo il primo stop stagionale, quindi direi che la giornata è comunque positiva per la Santa Sì sì, anche se non è che possiamo vincere tutte le partite, perché siccome stiamo abituando bene, abbiamo fatto otto vittorie in pareggio, però ci sono anche gli avversari Oggi è stata una partita difficile contro una buona squadra, forse l'unica pecca è non aver chiuso la partita sull'1-0, abbiamo avuto due occasioni, poi alla fine abbiamo anche rischiato di prendere il 2-2 Perché loro sono una buona squadra e quindi questa è una grande vittoria perché sicuramente è un campo difficile Infatti il gol della Rosetana è arrivato forse nel momento migliore della Sant'Egidiese, nell'unico momento in cui siete andati vicino al gol del raddoppio in due occasioni all'inizio del secondo tempo Dopo l'1-1 siete stati bravi e fortunati ad ottenere l'episodio che vi ha riportato avanti, poi è cambiato un po' l'atteggiamento, vi siete messi un po' sulla difensiva e lì avete sofferto nel finale Siamo messi così perché loro mettevano palla lunga e quindi abbiamo deciso di coprirci un po' perché poi le partite devi anche saperti adattare le situazioni Sì, abbiamo rischiato alla fine perché lui sta facendo un grande gol sicuramente, però nel senso l'unica cosa che posso rimproverare è che le due occasioni che abbiamo avuto Lì dovevamo fare gol e chiudere la partita Ripeto, la Rosetana è un'ottima squadra, qui è un campo difficile anche per giocare e penso che questa sia una grande vittoria Merito soprattutto dei ragazzi perché alla fine è una squadra in cui giocano tutti, una squadra forte Cammino ancora a lungo perché mancano tante partite e quindi dobbiamo stare con i piedi piantati per terra, lavorare e pensare alla prossima partita